la juve ruba questa narrazione frustrante a per questo che motta non vuole andare ai microfoni questa narrazione adesso la chiamano narrazione o si narrazione la juve ruba è una narrazione hai capito brutti gobbi di me è una narrazione capito 22 scudetti rubati è una narrazione capito 22 ruba tutti a tavolino combinati è una narrazione capito e quindi il poverino motta è frustrato ad andare davanti la tv perché voi siete cattivi con la juventus siete cattivi è una narrazione adesso capito stella se per loro sono in tribunale però è una narrazione non fa niente va bene non è vero siamo nel metaverso questi gobbi di me quando li radiate quando li radiate quando stiamo vivendo nel metaverso da 70 anni con questi qua quando li radiate quando è il metaverso il metafisico capito stella è una narrazione attenzione